Sono Lara e quest'estate ho avuto l'occasione di fare l'esperienza di missione a Cotonou in Benen dopo l'esperienza a Cotonou una delle parole che mi porto dietro e che per me è rimasta importante la parola buongiorno buongiorno la era la parola per entrare in relazione con l'altro la lingua non la sapevamo per cui sapevamo dire buongiorno ma ci dava la possibilità di entrare in relazione subito con l'altro sorridere ed entrare e conoscerlo in qualche modo creare subito un legame tornando qua fa sorridere come in realtà buongiorno spesso non si dica ossia una parola molto veloce molto detta così e per cui buongiorno rimane proprio una parola per entrare in relazione